Immagina, immagina un viaggio senza paragoni, immagina un viaggio unico e irripetibile, un viaggio che coinvolga tanti, un viaggio che unisca culture lontane, che cominci dalla conoscenza, dall'arte, dallo sport e dai sapori e che dal 1851 è meglio conosciuto come Expo, 130 nazioni provenienti da tutto il mondo fondono insieme le speranze di creare un futuro sostenibile nella terra che da sempre è crocevia di popoli e tradizioni, l'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Expo Milano 2015. Nutrire il pianeta. Energia per la vita.